Ha deciso di farla così perché voleva solo comunicare il simbolo lui, questo voleva fare lui. Voleva comunicare il simbolo, questo era quello che lui aveva detto, che intendeva comunicare il simbolo e dare e soprattutto presentare il simbolo al pubblico, spiegare quante dovevano essere le liste, la lista unita al Senato, questa era la sua idea. Un chiarimento, questo me lo puoi dare perché è tecnico, le regole che lui dice, l'incandidabilità legata alla letta, è per tutti o per la lista Monti? Per tutti, i criteri sono gli stessi per tutti. Chi sta con me accetta queste regole, questo è il principio di forza. Questo riguarda la coalizione, la coalizione e il Senato, questo allora è giusto, forse c'è ragione lei che va chiarito. Va bene. Questo non lo diciamo nella conferenza di Monti, arrivederci. No, ce lo puoi dire al bar.